Con l'introduzione del redditometro, la Liga Nord che cosa teme per i frontalieri? Noi siamo abbastanza preoccupati perché in questo paese come sempre a pensare male si fa peccato, ma come diceva qualcuno ci si azzecca. E quando si parla di frontalieri sappiamo benissimo che nel nostro paese è una categoria che viene distrattata nel quanto il confine dista molto da Roma e Roma non conosce questi problemi. Con la questione del redditometro noi abbiamo la preoccupazione che avendo i nostri frontalieri, giustamente i conti nel Banco Svizzera in cui vanno a lavorare e a fare gli operai, qualche fenomeno possa alzarsi la mattina e rendere ancora difficile la vita ai nostri frontalieri. Per cui abbiamo voluto anticipare, come stavo dicendo, questa questione in modo da cercare di tutelare da subito la questione dei frontalieri. Tra l'altro la grande battaglia che stiamo portando avanti come Lega da sempre è sul fatto dei soldi che sono nelle casse dell'IMS, oltre i 270 milioni di euro che derivano dal sudore del lavoro dei nostri frontalieri e che sono dentro nel calderone dell'IMS. Noi vogliamo assolutamente che questi soldi vengano messi a disposizione per quanto riguarda l'indennità di disoccupazione dei nostri frontalieri, perché sono soldi che provengono dal loro lavoro e per cui come tali vogliamo che vengano tutelati assolutamente. Noi vigileremo affinché questo avvenga.